Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite approva all'unanimità una risoluzione a sostegno del processo di pace in Siria. La svolta è arrivata dopo l'accordo tra i cinque membri permanenti. Il testo approvato dall'ONU dà il via libera ai negoziati di pace formali tra governo e opposizione. L'obiettivo è di dare il via ai colloqui all'inizio di gennaio. Il processo politico ha l'obiettivo di stabilire entro sei mesi un governo di transizione credibile e inclusivo per passare all'approvazione di una nuova Costituzione ad elezioni sotto legida dell'ONU entro 18 mesi. La risoluzione sottolinea lo stretto legame tra il cessato e il fuoco e un parallelo processo politico e introduce il monitoraggio della tregua da parte delle Nazioni Unite. Il documento non affronta un punto cruciale al futuro del Presidente Bashar al-Assad.